Grazie a tutti. Noi dobbiamo fare di tutto perché si possa rapidamente investire sull'aeroporto di Reggio Canale. Ma non è vero, non è vero. Non è messo come priorità. Ma perché mi tirate? No, no, ma chi le tira? Si sta tirando il vostro. Ma cercate di non dire più bugie però. Giorrenzi, cercate di non dire più bugie. Dovevate lasciare? Ma dovevate lasciare la politica? Apriamo il treno. Falco Matà, anche Falco Matà, non sta facendo niente per l'aeroporto. Giorrenzi, è una scenata questa, è una scenata. Anzi, perché è passato da dietro? È una scenata. Si deve confrontare con la città, non solo con quelli del PD. Ma dove va? E' fuggito. E' fuggito. La città muore e noi qui a presenziare questa pagliacciata. è una pella. grazie